E sotto la Madonna con bambino è presente un altro affresco che rappresenta l'immagine di un leone. Questo è il simbolo del casato degli Attendolo Sforza. Il capostipite della famiglia Sforza fu Muzio Attendolo, un contadino poi divenuto capitano di Ventura, soprannominato Sforza, proprio per la sua forza fisica e il suo valore militare. La parola Sforza poi viene utilizzata per il cognome dell'intero casato. Si tratta di un leone rampante che viene raffigurato con un ramo di cotone. In questo caso probabilmente erano raffigurate delle mele cotone tra le zampe di questo leone, proprio per indicare l'origine di questa famiglia. Erano originari di Cotignola, in provincia di Ravenna, in Emilia Romagna. Probabilmente non è il nostro caso perché l'immagine non è ben chiara, ma spesso il leone rampante viene raffigurato anche con un elmo e al posto del cimiero, la parte superiore, è presente l'immagine di un drago.